Oggi abbiamo dato la possibilità ai lavoratori di fare un esercizio di democrazia, di andare e scegliere da soli, con la loro testa, coscientemente, cosa vogliono per il futuro. Ci sono due situazioni sul tavolo, una è quella legata alla proposta aziendale, che porta l'orario contrattuale a 34 e 18 ore, l'altra è la situazione attuale, perché noi volevamo un orario di lavoro migliore, nel senso che almeno 36 ore, 40 per chi li aveva precedentemente, 20 ore per i part time, cosa che non è avvenuta. Quindi dobbiamo vedere cosa ci diranno i lavoratori, i lavoratori hanno la possibilità di votare sia oggi che domani. Non abbiamo dato indicazione di voto, abbiamo detto semplicemente le cose come stanno e le abbiamo spiegato in maniera settica, e quindi i lavoratori potranno scegliere senza farsi influenzare. Questo penso che sia fondamentale in un esercizio. Abbiamo avuto una difficoltà, l'abbiamo ancora a affrontare questa trattativa e questa avvertenza. Noi abbiamo un'azienda che praticamente chiede sacrifici solo ai lavoratori, solo agli operai. È un'azienda che non fa investimenti, è un'azienda che parla ai lavoratori, ai sindacati e anche all'intera comunità di un ripensamento, di rimodulazione dell'azienda in fason del gruppo, il gruppo Kering, quindi Gucci, Balenciaga, Isandoran. Il problema è uno, che il fasonismo lo si farà solo sulle spalle e sulla pelle dei lavoratori e non sulla pelle e sulle spalle dei dirigenti, dei quadri e di tutto quello che praticamente prevederebbe una struttura seria e sana del fason. Quando siete preoccupati come lavoratori che l'Abrioni possa finire come le tante aziende abruzzesi di cui si sente parlare in questi giorni? Guarda, la paura c'è, è inutile nasconderci che la paura c'è ed è tanta. Io ripeto, noi vogliamo scongiurare tutto questo, siamo pronti a ogni tipo di dialogo, a ogni tipo di tavola, di trattativa. L'importante è che l'azienda non faccia più muro e non dico che deve accettare le nostre proposte o quello che noi diciamo, però che l'azienda si renda partecipe a discutere seriamente di ogni tipo di problematica che attualmente Brioni ha.